Capitolo 18 In quel mentre i discepoli si accostarono Gesù dicendo, Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, In verità io vi dico, se non mutate e non diventerete come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli, e chiunque riceve un così piccolo fanciullo nel nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, poiché, bene è necessario che avvengan degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede te è occasione di peccato, mozzali, e gettali via da te, meglio è per te l'entrar nella vita monco o zoppo, che l'aver due mani o due piedi, ed esser gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo te è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te, meglio è per te l'entrar nella vita con un occhio solo, che l'aver due occhi, ed esser gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vi pare egli, se un uomo ha cento pecore, e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le novantanove sui monti per andare in cerca della smarrita? E, se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che i si rallegra più di questa che delle novantanove che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli che neppure uno di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Ma, se non t'ascolta, prendi te con ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico, in verità, che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro. Allora Pietro accostato si gli disse, Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io fino a sette volte? E Gesù a lui, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo Signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli, e tutto quanto avea, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettato si a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo, Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto. E il Signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito. Ma a quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi, che gli dovea cento denari, e afferratelo, lo strangolava dicendo, Paga quel che devi. Onde il conservo, gettato si a terra, lo pregava dicendo, Abbi pazienza con me, e ti pagherò. Ma colui non volle, anzi, andò e lo cacciò in prigione, finché non avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati, e andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Allora il loro Signore lo chiamò a sé, e gli disse, Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te? E il suo Signore, adirato, lo diede in man degli aguzzini, fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli dovea. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Grazie. 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 Grazie.